In verità, quello di cui noi ci siamo interessanti, quindi con i centri di medicina integrata fanno riferimento a uno studio che abbiamo iniziato in Campania, il progetto si chiama Eco Food Fertility e che stiamo estendendo in diverse parti d'Italia e al momento in due aree d'Europa che sono due zone inquinate della Spagna e della Grecia, più alcune aree che vi farò vedere. Perché oltre la fertilità? Fondamentalmente noi cerchiamo di considerare, ci sono delle premesse che forse vi risparmio, sono un po' quello che noi abbiamo detto, ma vorrei passare direttamente a questa diapositiva, anzi a quest'altra, che fa riferimento all'antropocene. Ieri parlavamo proprio con Ernesto su una serie di aspetti che riguardano l'impatto ambientale sulle nuove generazioni. Ecco, la Human Age, quindi l'antropocene, che fa riferimento al 1950 in poi. da questi due lavori portati da Nature, uno del 2016 e l'altro del 2018, che fanno riferimento appunto a questa nuova era. Quindi quanto appunto l'uomo incide sul pianeta e sulla natura. quindi questa nuova era che va segnata dal 1950 ad oggi. E fa riferimento un po' a tutto il fallout degli esperimenti nucleari che sono stati fatti appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi l'entrata dei pesticidi, quindi l'agricoltura industriale e tutto quello che sappiamo. E l'impatto che ovviamente questo ha avuto sulla salute. E poi gli altri concetti fondamentali che sono l'esposoma. Quindi l'insieme appunto di tutte le esposizioni e l'impatto che questo ha sulla salute. E fondamentalmente ho messo in questa diapositiva due rappresentazioni bibliografiche che fanno riferimento proprio all'esposoma. Oggi ci sono in campo dei progetti che l'Unione Europea sta portando avanti e porterà anche con una call che scadrà il 19 aprile, nella quale probabilmente sono anche quindi coinvolto, sulla esposizione e quindi questo nuovo modello di valutazione dunque di impatto considerando non solo gli aspetti biologici ma anche gli aspetti socioculturali, psicologici. Quindi l'esposoma in termini assolutamente generali. E fa riferimento a quello che vi dicevo prima. Ma queste sono, guardate, ve le voglio far passare perché il tempo veramente è molto ridotto. Ve le faccio giusto un quarto d'ora, però queste sono cose che in parte già sapete. Questo è quello che noi possiamo ritrovare nei nostri fluidi se facciamo una valutazione dei tossici e le vie di trasmissione. Gli interferenti endocrini, tutti sappiamo che cosa sono gli interferenti endocrini e come agiscono. Questi sono i meccanismi di interferenza sulle membrane cellulari. Ve le esalto perché credo che le sappiate tutti. Il fatto importante che mi diceva Alberto Mantovani, l'Istituto Superiore di Sanità, sa che da un anno e mezzo l'EFSA, che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, sta studiando il cocktail delle sostanze sui cibi. Un anno e mezzo. Sappiamo che quello che ci arriva sulle nostre tavole è un insieme di piccole dosi di sostanze come i pesticidi. Se consideriamo quindi la meta che viene trattata almeno per 15 trattamenti, troviamo una serie di residui di pesticidi che ovviamente sono tutti nella norma, ma la somma, o meglio la moltiplicazione degli effetti, si sta cominciando a studiare da poco. Nonostante già nel 2012 un articolo su questa importante rivista metteva appunto l'attenzione sulle basse dosi e quindi l'effetto sulla salute di basse dosi di queste sostanze. Ma fondamentalmente noi ci ritroviamo in una situazione di resistere agli impatti. Perché questo? Perché non si legge bene perché è rosso? Noi, e anche con quello che stiamo facendo, sia di ricerca ma in termini anche quindi clinica, dando delle indicazioni di resistenza, delle indicazioni su misure di resilienza, come resistere all'impatto ambientale, visto che esiste, c'è e che i cambiamenti saranno lunghi. Molti sono gli studi che sono stati fatti negli ultimi anni, e questo è fino al 2017, su appunto inquinamento e riproduzione umana. Questo è il primo studio fatto appunto nel confronto fra la contaminazione e l'effetto della contaminazione sull'apparato riproduttivo dei coccodrilli del lago Apopka con altri due laghi sempre nella Florida. Nel lago Apopka, il lago inquinato, c'erano pochissimi coccodrilli maschi, quei pochi che c'erano avevano piccoli testicoli, pochi spermatozoi e pene piccolo. Questa è la prima evidenza in natura. Devo dire che dallo studio, e ne parlavamo anche con Burgio, quello che stiamo facendo oggi in Italia, ma qualcosa già è uscito anche da altri studiosi, in effetti stiamo cominciando a vedere le stesse cose nei giovani di oggi. E poi vi spiego che cos'è quello che stiamo vedendo. Questa è una carrellata degli studi che sono stati fatti sull'impatto che l'ambiente ha sulla salute riproduttiva, ve li faccio passare rapidamente. L'impatto elettromagnetico sulla fertilità, 21 su 27 studi dimostrano un impatto importante sulla fertilità maschile, e questo è l'ultimo report del 2018, dove in effetti si conclude che hanno un impatto importante appunto sulla qualità libido seminale. Questo è stato appena pubblicato. Ovviamente questo tipo dunque l'impatto lo ha sulla fertilità anche femminile, quindi sulla risposta ovarica, sul numero degli embrioni, me le faccio passare rapidamente. L'infiammazione introtorina, questi sono gli indicatori sensibili di danno da esposizione ambientale, sono dunque gli indicatori di base, di cui Bugio ovviamente vi spiegherà più avanti. Junk food, ridotto attività fisica, e poi le alterazioni transgenerazionali, quindi queste alterazioni come vengono ad essere trasmesse attraverso la linea germinale maschile e femminile. E qui riporto una serie di lavori, fra cui una importante della dottore e professoressa Subbri, belga, con la quale, Bugio la conosci, la Subbri, con la quale stiamo avendo dei colloqui per avviare un grosso progetto europeo proprio sull'effetto transgenerazionale dei contaminanti per via paterna. E questa è la rappresentazione di quello che può essere. I meccanismi di difesa, fallimento della fertilizzazione, se abbiamo ovviamente una alterazione della qualità seminale, un aumento degli aborti oppure se c'è la fecondazione, poi una maggiore suscettibilità a malattie nella discendenza, quindi nella progenia, ma di questo ve ne parlerà sempre Ernesto. Questo è l'ultimo rapporto sentieri presentato il 12 giugno 2018 nelle zone ad alto rischio ambientale e le zone ad alto rischio sono state appunto numerate in 45. Considerate che l'area della terra dei fuochi dove io abito, io sono di Acerra, rappresenta da sola in termini di estensione territoriale la più vasta e in termini anche di numero di abitanti facciamo riferimento a 2 milioni e mezzo. Se sono 5 milioni e mezzo in tutta Italia le persone che vivono nelle zone a rischio dal nord, dal centro, dal sud solo in Campania, solo nella zona nostra abbiamo 2 milioni e mezzo, quindi quasi la metà. Quindi è una zona, come voi sapete, molto attenzionata e nel rapporto dell'istituto di supervisionità in effetti, questo è lo studio sentieri, c'è un eccesso di malattie tumorali con percentuali percentuali veramente importanti che potete leggere. Ma qual è la questione? La questione è non ho capito perché non si apre qua no, quasi dovrebbero aprire una serie di voci non si apre, vabbè comunque ve le spiego non so perché non si apre ma fondamentalmente noi che cosa vediamo? Anche negli studi epidemiologici o anche vediamo il danno conclamato quindi ci sono tantissimi studi sulla incidenza delle malattie cronico-degenerative ma non c'è nulla e per questo noi siamo tutti quanti qua sul danno latente quindi sul livello di prevenzione primaria e lì non compare ci sono quegli studi che noi stiamo avviando considerando i sistemi organo-sentinella il sistema organo-sentinella che noi stiamo studiando e che per i risultati che ci staranno sembrerebbe il migliore è proprio l'apparato riproduttivo ovviamente per ragioni di facilità di studio quello maschile perché il liquido seminare ce l'hai ovviamente a portata di mano è un sistema estremamente utile che ci sta dando molte soddisfazioni nelle cerche che stiamo facendo ma basta solo vedere questi dati negli ultimi 38 anni abbiamo il 60% di riduzione della concentrazione spermatozovaria questo è lo specchio più fedele di quanto l'ambiente il cattivo di studio di vita agisce sulla salute umana non esiste nessun tipo dunque di valutazione più fedele di quello che voi vedete in questa diapositiva considerate che abbiamo prima di questo studio nel 1942 dal 1949 nel 1992 c'è stato già un calo di oltre il 40% uno studio di Carlsen oggi questo studio nel 2017 Levine che è un professore dell'università di Gerusalemme appunto ha fatto questo studio meta-analitico pubblicato su Human Reproduction e quindi un calo nei paesi occidentali del 59% questo è quello che è successo negli ultimi 15 anni in Cina e sappiamo qual è stato lo sviluppo che ha avuto la Cina il 30% negli ultimi 15 anni è una riduzione della motilità della morfologia e della concentrazione di spermatozovi ovviamente nei paesi occidentali io non ho capito perché non si vedono alcuni passaggi ormai siamo al di sotto della soglia di sostituzione della popolazione pensate che in Italia il tasso di natalità è sceso in maniera drammatica dal 1900 dal 2010 fino al 2015 non neanche qua compare vabbè ve lo faccio vedere qua una diapositiva in cui metteva in risalto in particolare il calo della natalità in Italia e i dati erano che in Italia abbiamo un figlio virgola 24 quindi molto al di sotto del 2.1 di cui facevo riferimento e andiamo a verificare l'aspetto che poi riguarda un po' quello che ha la base del nostro studio e che poi ha dato l'idea dei centri mirra il seme come marker di salute generale una serie di pubblicazioni cioè l'ultima nel 2018 che non ho riportato riporta come in effetti una cattiva qualità seminale è predittiva di malattie cronico-degenerative nell'adulto e quindi una serie di studi questi sono rispettivi mettono in correlazione la qualità del liquido seminale con la mortalità per tutte le malattie cronico-degenerative ora perché questo è l'altro aspetto invece che riguarda il perché il seme è un affidabile sensore della qualità ambientale ci sono una serie dunque di motivazioni che sono quindi qui esposte i dati epidemiologici quindi sono ormai chiari sul calo importante della concentrazione di spermatozoi in tutti i paesi occidentali ormai sono tanti gli studi in tossicologia animale che dimostrano l'effetto di queste sostanze sulla qualità del liquido seminale inoltre la spermatogenesi a differenza dell'erogogenesi è un processo che inizia alla pobertà e termina quindi alla fine dunque dei giorni dell'uomo è un processo in continua replicazione è quindi ovvio che c'è una maggiore sensibilità a tutta una serie di stress endogene ed esogeni a differenza invece della riserva ovarica che è quella alla nascita e che poi si consuma ma quella rimane in più le cellule rispetto alle cellule uovo proprio per il loro piccolo citoplasma non sono dotate di grandi capacità appunto antiossidanti mentre ecco quello che diceva giustamente Marco mi confondo con Marco buona pace con cui lo abbiamo spesso che è un liquido seminale ricchissimo di sostanze antiossidanti perché sono quelle che proteggono lo spermatozoo e poi sempre riferendomi allo studio che aveva rappresentato sulla lipidomica che è quello assolutamente centrale è la presenza di questi grassi acidi polinizali che sono come voi naturalmente sapete estremamente sensibili allo stress ossidativo in più il liquido seminale è un bioaccumulatore e di fatti abbiamo fatto uno studio che pubblicheremo nel 2019 abbiamo messo insieme il capello le urine il sangue e lo sperma ora stiamo mettendo anche la saliva e le unghie questi sono appunto cromatogrammi dello stesso soggetto e dello stesso biofluido il seme rispetto a tutti gli altri fluidi concentra in maniera maggiore i boc quindi i composti volatili lo stesso studio lo stiamo facendo sulle diostine quindi è un grosso bioaccumulatore quindi è estremamente sensibile come dicevo agli stress ambientali è un market di salute generale quindi su questa duplice funzione noi abbiamo avviato appunto uno studio multicentrico per valutare in maniera più puntuale quanto l'ambiente incide sulla salute umana quindi come chiave di lettura consideriamo il liquido seminale per queste sue particolari caratteristiche è uno studio di due fasi una fase appunto di valutazione del danno è una fase di intervento come riparare i danni cioè noi ci siamo fermati a valutare il problema e basta ma vediamo appunto come possiamo riparare il danno vabbè un minuto e non ce la faccio siamo partiti dalla zona della terra dei fuochi per le vicende che voi tutti conoscete questa è la prima fase del progetto quindi individuazione più sensibili precoci e predittori indicatori di rischio salute pubblica da inquinamento ambientale liquido seminale chiave di lettura nel rapporto ambiente di salute potenziale produttore malattie conico-regenerative per le attuali future generazioni e stiamo avviando il disegno transgenerazionale a parte la valutazione di base e poi la seconda fase come detossificarci a inquinanti con stili di vita sistemi appunto dietetici e nutraceutici quindi il ruolo della corretta alimentazione e la bonifica dell'uomo inquinato delle aree d'Italia e d'Europa lo studio inizialmente comprendeva in un progetto europeo che presentavamo due anni fa una serie dunque di paesi ma lo stiamo ripresentando con più paesi di quelli che vedete e è abbastanza quindi completo abbiamo aggiunto anche fra l'altro la fase femminile stiamo valutando abbiamo già un centinaio di donne addirittura sul fluido follicolare di donne che vivono in zone a differente pressione ambientale sempre di due zone della campagna terra dei fuochi la zona io sto prendendo anche a Taranto fra l'altro e la zona dell'alto medio sele facciamo tutta una serie di valutazioni di sostanze che voi vedete metalli pesanti ipa, diossine, pcp anche in nanoparticolato e tutta una serie bisfenoli, ftalati e più tutta una serie di indagini omiche redoxomiche proteomiche metabolomiche tutto quello che vedete qua epigenomica la fase 2 del progetto è quali sono i sistemi dietetici che riescono a ridurre appunto l'impatto ambientale ridurre il bioaccumulo di sostanze tossiche proprio ridurre la quantità di quelle sostanze che noi vediamo al tempo zero dopo un adeguato trial clinico che fra l'altro stiamo portando avanti proprio col ministero della salute nei giovani in tre aree all'alto impatto ambientale e quindi appunto l'utilizzo della dieta e dello studio di vita per modulare l'impatto che l'ambiente ha sulla salute nel senso proprio di disintossicazione anche da queste sostanze questo è il primo studio che noi abbiamo pubblicato proprio in campagna in campagna fra l'altro ha vinto anche l'anno scorso il premio come migliore pubblicazione dell'anno abbiamo messo in correlazione questo è un altro studio che abbiamo fatto dal CNL di Pisa sui telomei abbiamo messo insieme questi due studi 222 ragazzi età media 28 anni non fumatori non bevitori non esposti professionalmente provenienti dalla zona della terra dei fuochi rispetto alla zona dell'alto medio sele che è nella zona del salernitano che cosa abbiamo visto? solo il fatto di vivere in queste due aree non obesi quindi io per fare questi ragazzi ho dovuto toglierne almeno 500 quindi sono 222 ne ho visitati circa 800 con pochissime risorse abbiamo poi col CNL e questo giusto per la sanità per fortuna abbiamo una serie di collaborazioni che sono intervenute in questo progetto da varie parti d'Italia proprio per l'innovazione che noi portavamo di fatto che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che ci sono delle differenze importanti in termini di bioaccumulo di sostanze in questo caso di metalli pesanti lo stiamo vedendo già con le diostine fra poco pubblicheremo ma non solo alterazioni dello stato redox quindi una riduzione degli enzimi della capacità antiossidante questo in particolare nel liquido seminale e non nel sangue le differenze erano minime alterazione del DNA spermatico una maggiore fermentazione del DNA spermatico e allungamento dei telomeri negli spermatozoi il paradosso paterno non è come i linfociti la differenza noi l'abbiamo vista tutta negli spermatozoi e non nei leucociti la differenza era minima non c'era di accorciamento in quel caso di allungamento degli spermatozoi funziona un po' diversamente negli spermatozoi l'opposto poi ancora diciamo così questa è una pubblicazione di quanto in effetti l'inquinamento atmosferico incide sulla salute questo è uno studio che ho fatto con la Gatti mettendo in confronto i militari del Kosovo con alcuni soggetti della zona laterale dei fuochi dove siamo andati a vedere la presenza di nanoparticolato questo poi l'abbiamo pubblicato sempre su Tossicology riportati Tossicology questo è il nanoparticolato nel liquido seminale abbiamo fatto questo confronto e di fatti le alterazioni stesse questo è quello che una foto sua che fa vedere come ha detto il nanoparticolato entra nel nucleo quella è la divisione cromosomica quindi vedete quanto penetrano queste sostanze all'interno del nostro organismo questo è uno studio che abbiamo pubblicato nel 2018 per verificare fra i vari parametri motilità morfologia numero e DNA spermatico qual era il più sensibile all'inquinamento atmosferico abbiamo preso 327 maschi lavoratori dell'ILVA residenti di Taranto residenti della Terra dei Fuochi residenti di Palermo residenti dell'Alto Medio Sere abbiamo fatto il confronto con i livelli di PM10 PM2,5 benzene per avere questi dati dell'Alpa che ci abbiamo messo un anno non ce li volevo dare in nessun modo ma alla fine praticamente siamo riusciti ad un nucleo di ravelli il confronto fra questi e i parametri quindi seminali dimostrano che addirittura è il DNA spermatico quello più sensibile all'inquinamento atmosferico c'è la cosa peggiore che uno si può rappresentare ovviamente poi un altro studio che ha messo insieme Sesi lo so che devo chiudere il seme più del sangue al nostro giudizio appare un precoce e sensibile marchi di esposizione ambientale e può essere considerato ai policy makers come uno strumento potente di produzione di impatto ambientale sulle popolazioni questo l'abbiamo pubblicato appena a giugno sul ruolo del liquido seminare appunto come mezzo di produzione di impatto ambientale queste ve le faccio scorrere rapidamente dammi il liquido seminare e ti dirò anche ambiente vivi queste sono altre pubblicazioni sempre sulla stesso ossidativo questa è tutta la parte di detossificazione di come appunto gli inquinanti ambientali agiscono sulla salute generale e questo è quello che gli antiossidanti ossia i fitochemicals possono avere sulla sulla salute riproduttiva e quindi come in qualche modo hanno questa azione di contrasto nei confronti degli inquinanti ambientali io purtroppo non ce la potevo fare perché non ce la potevo fare perché sono parecchie diapositive voglio solo arrivare alla fine io perciò voglio intervenire oggi pomeriggio perché così non va bene questa è una è una rappresentazione di come funziona il sistema da una parte abbiamo stress ambientale alimentare che agisce appunto sulla salute generale determinata tutta una serie di malattie e come possiamo contrastare con stili di vita e alimenti appunto lo stress ossidativo questo è lo studio che stiamo facendo nelle diverse parti d'Italia presentato anche in Europa passiamo per finire voglio solo arrivare a questo scusami le fasi migliori per fare prevenzione non c'è dubbio che è quella della prima fase l'embrio fetale quindi lo sviluppo materno e quella adolescenziale queste sono le migliori fasi per fare prevenzione vera per tutte le patologie croniche degenerative delle attuali e future degenerazioni sulla base di questo finisco questo vi faccio passare rapidamente il progetto che stiamo facendo con il ministero della salute questo lo devo dire per forza nelle tre aree ad alto impatto ambientale del progetto FAST quindi noi stiamo prendendo 450 ragazzi ne abbiamo preso ormai 400 a fine studio al tempo zero rifacciamo una serie di valutazioni su proteomiche epigenomiche e metalli pesanti l'intervento nutrizionale un trial clinico randomizzato e al tempo due ricontrolliamo se in effetti quel tipo dunque di alimentazione riduce la presenza di metalli tossici e di altri e degli dei biomarcatori di effetto che noi andiamo a valutare che sono quelli epigenetici e anche quelli proteomici quindi vediamo in effetti stiamo facendo anche lo studio contemporaneamente anche sul capello sugli stessi soggetti col sistema S-Drive ho visto le stesse cose che diceva Marco su dieci ragazzi ho fatto delle prove mettendo per gli stessi ragazzi sperma e liquido seminare e in effetti io mi ritrovo in qualche maniera con quei tre casi che tu hai rappresentato finisco i sistemi di difesa ambientale che stiamo mettendo in campo diciamo così con il progetto è un progetto che si sta declinando molto sul territorio coinvolgendo aziende abbiamo anche creato un prodotto per la detossificazione inquinante ambientale ecodefense che stiamo associando anche a self food che ci sembra ottimo per questo tipo dunque di prosiglio dunque nel progetto poi in termini sperimentali questi sono i messaggi che vi volevo appunto portare l'apparato riportivo organo sentinella il seme umano sensore della qualità ambientale della salute generale la fertilità considerarla appunto un indicatore fondamentale di salute presidio di prevenzione per tutte le patologie croniche generative di questa generazione e delle future per la trasmissione per generazioni la fertilità vista nella prospettiva appunto più ampia di protezione della salute pubblica noi operatori della rivoluzione siamo al primo livello di prevenzione finisco per una cosa bella che voglio dirvi finisco finiramente lo so ma purtroppo doveva avere 40 minuti ho dovuto ridurre in un quarto d'ora quindi figuratevi perciò volevo fare allora guardate questa è una cosa interessantissima perché proprio una settimana fa abbiamo su un progetto che si chiama il seme del sele fa sempre riferimento al progetto abbiamo creato nell'area della valle del sele il primo distretto al mondo di medicina dello stile di vita mettendo insieme medicina ospedale aziende agricole aziende termali stiamo facendo un'operazione è venuto anche il professor Biava e Spaggiari a vedere quello che stiamo facendo tanto è vero l'incontro lo facevamo nelle terme venne anche Giorgio Reziani devo dire Giorgio che questo è il contesto nel quale noi operiamo nel modello One Health abbiamo fatto un corso per tre anni abbiamo messo insieme tutti questi fattori è stato creato il 6 dicembre il protocollo intesa con la valle con il parco e poi l'ultimo è che è proprio questo una settimana fa l'Asla Salerno con Delibera ha istituito il primo servizio di medicina di stile di vita in Italia pubblico e il primo servizio pubblico di medicina in stile di vita di urologia al mondo giusto per capire che cosa stiamo quindi facendo in quella bellissima valle che è la valle del Sele e con questo quindi concludo arriviamo appunto alla definizione poi del progetto Mirra di cui poi ne parlerà la dottoressa sono stato veramente rapido perché è un progetto esteso non ho mai fatto circa 110 diapositive in un quarto d'ora 20 minuti dovevo farle in 40 però io avevo a disposizione 40 minuti quindi ho saltato probabilmente non avete capito tutto quello che dovevo dire però penso e spero che alcuni concetti di base vi siano entrati grazie